Siamo qui sulla pagina Facebook Non Censura, sta per parlare Constantine Demeter dell'iniziativa Moneta Intera, adesso il Movimento 5 Stelle di Monza sta mandando lo spettacolo di Grillo del 98, Apocalisse morbida, che Grillo fu allievo di Auriti nel 96. Ganchieri, un'altra c'erano i Gangster, oggi ci sono due Gangster, il primo sulla destra, guardiamo le facce, torniamo agli stinti, guardate la faccia, Grispan, presidente della fede della Reserva Americana, Grispan, guardatela, è un uomo quello lì, o un cane la dritta, è un cane quello lì, solo se lo riferisco tra un cane di bambini che se al cane ti riporta e te la riporta indietro, o il bambiere col cazzo che ti riporta indietro a qualcosa. Vai e verso! Secondo, la grande banca del nostro paradiso, Tittmeier, della Bundesbank! Bundesbank! Questo qua è Tittmeier, Tittmeier ha già nominato e ha già stipendio con i nostri soldi Kussberger, direttore della banca centrale europea a Francioforte, quella che desiderà se casa tua potrà fare qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università, se tu ti potrai far pesciare i capelli! Lo dirà uno nominato da questo Buster, andato a mare, Tittmeier, Tittmeier, terzo banchiere, ma su Città, l'hanno quasi a riscatto, poi un voto in Corri Casino, presidente della banca capolese, prima banca del mondo, guardate che faccia, e guardate in fondo, vai, lì, dal culo del drago, e se questa moroide, questa moroide disumana, è il nostro governatore della banca d'Italia, falsa, grazie falsa, e questi quattro li vedo una cosa straordinaria sono quattro banchieri di quattro banche che stampano moglietta e la prestano, stampano soldi e prestano, stampano e prestano, noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità, non sappiamo se una medicina si fa bene o male, se una notizia vera e falsa, non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito, è vero, ci faranno 2 milioni e mezzo di miliardi di debito, se c'è un debitore ci faranno un creditore, a chi cazzo ne dobbiamo si sceglie? A chi dobbiamo 2 milioni e mezzo di miliardi che vi rompono i coglioni d'azietà e con 2 milioni e mezzo di ribiardi? A noi, allora ne indivano da solo, non voglio più cazzo se non parli ma fa tu, è un sistema, questo è un sistema tremendo, non riusciamo più a percepire, se io adesso mi chiedessi a qualcuno che cos'è l'oro, hanno fatto rientrare tutti i canoni nei parametri, rivalutando l'oro, Biden ha rivalutato l'oro, noi abbiamo rivalutato l'oro di 3 miliardi sulla carta, che cos'è l'oro? E' una ricchezza l'oro, siamo tutti convinti che sia una ricchezza l'oro, no? E' vero, onestamente, dai, eh? Allora l'oro che non lo sè? L'oro si prende facendo un buco in Sudafrica, in Turchia, oppure in Amazonia, quelli che sono i cercatori d'oro, l'oro è una ricchezza, questi sono, ecco, fai quanti lì, sono 40 mila persone che fanno un buco per cercare l'oro, un chilo d'oro, tre cento mila chili di rifiuti, uno per cento mila, rifiuti di cianuro e mercurio, la cosa con il più alto impatto ambientale che esista in natura è l'oro, va bene, però scadiamo l'oro, prendiamo l'oro in un buco e quando prendiamo quest'oro da un buco lo portiamo e lo mettiamo in un buco sotto una banca, c'è, è il morone da un buco a un altro buco, cazzo facciamo direttamente la banca sul primo buco e la facciamo, che senso va, l'oro, l'oro non è una ricchezza se lo prendi da un buco e lo nascondi sotto una banca, è solo un costo pazzesco, sarebbe una ricchezza l'oro se lo dai ai dentisti che ci fanno delle casche di catture o agli orati che lavorano o agli elettricisti ma solo metti di un cavo e si rivalutano, ma rivalutano nulla, nelle banche non c'è più niente, non ci sono neanche i vostri spazi, oggi i soldi nascono dal nulla creati dalle banche, bip, con un computer, mille miliardi in Messico, in Messico banca rotta, bip, mille miliardi, Thailandia banca rotta, Corea banca rotta, Indonesia si mangiano le ruppie, in Jugoslavia c'è un'inflazione come nel 30 in Germania, che andavano a comprare le sigarette con la carriola, il spettacolo del 1998, può succedere domani mattina qui, qui può succedere domani mattina, in banca non c'è più niente, una volta si stampavano i soldi quando c'erano l'oro e le casse corti, si stampavano i soldi quando c'erano i nostri risparmi a proteggere i carti di petto, non c'è più niente, stampano soldi e ce ne presto, ora mi dite una cosa, di chi sono i soldi? E' una domanda, la proprietà dei soldi che chiede? Eh? Dello Stato, quindi lo Stato siamo noi, lo Stato, sapete che non esiste lo Stato, lo Stato è un'indirizione giuridica non c'è lo Stato, chi siamo noi? Siamo sulla pagina Facebook No Censura, sta per parlare Constantin Demeter dell'iniziativa la moneta intera svizzera. Se i soldi sono i nostri, perché? Che li prestano? Rispondi Gianmarco. Che è qualche cosa che non si fa, no? Se i soldi sono i nostri, perché ce li prestano? Una volta avevi delle monete d'oro, c'era l'oro, un po' d'oro c'era, benissimo, però ce l'avevi in mano, tu adesso hai un pezzo di carta che ci stivano 100 mila lire, allora vediamoci chi sono i soldi, mi sono permesso di controllare l'ovvio, perché l'ovvio non lo controlla mai nessuno, e chi può controllare e leggere i soldi, se no uno di giro va con dei grossi problemi. Allora, sulle 200 lire, sulle 100 lire c'è la Repubblica Italiana, la Repubblica italiana siamo noi, va bene? Ripeto spettacolo del 1998. Le Repubblica Italiana non c'è più, c'è Banca d'Italia, un governatore, e poi c'è sito pagabili a vista al contattore. Se c'è sito quella cosa di fare, cosa vuole dire? Pagabili a vista al contattore. Per le 100 mila, pagabili a vista, pagabili dalla banca, pagabili dalla banca, mi vede? A vista, cazzo. Sono il portatore. Lui può pagare per te, ce l'avete sentito a tutti, cazzo. Cazzo che ti fanno, non ti fanno niente. Però, perché ci stivano questa cosa? Però uno dice, ma prima cosa dici? La Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano. Non è vero. La Banca d'Italia è un'SPA privata, la proprietà stessa, non si trova mai chi sono, ma sono sempre gli stessi, con la sede e i coglioni alle isole Cayman. Stampano soldi, da nulla e ce li prestano. Lo Stato dovrebbe stampare i soldi, i soldi ci servono per lavorare. Lo Stato dovrebbe dire, ce ne sono pochi? Ne stampa troppo un po' e ne metto un po' in circolazione. Ce ne sono troppo pochi, ce ne sono molti, ne prendo un po' e ne voluccio un po'. Mantengo la circolazione stabile, i prezzi stabili, i soldi servono per tenere i prezzi stabili e per farci lavorare, sono pezzi di carta, però li stampa un S.P.A. perché i soldi non dovrebbero essere così. Banca d'Italia, governatore, pagabili i soldi in un paese civile dovrebbero essere così. Repubblica italiana e non Banca d'Italia, di proprietà del portatore e invece di un caso di governatore, il capo dello Stato, firma lui, farebbe una cosa nella vita che ci potrebbe dare il minimo di soddisfazione. Stato, spero che vi sia stato chiaro adesso qual è il significato di denaro e di chiusura su questo denaro. Per cui, adesso, volevo invitare... Stati tu, Sergio. Allora, prima facciamo vedere il video, poi facciamo parlare i nostri due regatori, così vi rendete ancora più conto della situazione. Sì, scusate, era del 2005 lo spettacolo, invece nel 1998 ha fatto Apocalisse morbida. Questo era nel 2005, mi sembra. Adesso sta per cominciare a parlare, Constantin Demeter, dell'iniziativa referendaria Moneta Intera. In Svizzera l'iniziativa vuol dire che si fa un referendum propositivo, cioè che è legge, se passa. Non come in Italia, che i referendum hanno addirittura il quorum. I due rappresentanti di Moneta Intera sono Constantin Demeter e Sergio Morandi che farà la relazione successiva. Hanno raccolto 110.000 firme in Svizzera per fare il referendum che fa legge, il referendum legislativo, riguardo l'abolizione della riserva frazionaria, cioè la non creazione della moneta dal nulla delle banche commerciali. Siamo qui con Antonio Pimpini. Vuoi ricordarci nel 1996 quando Grillo telefonava e veniva a Guardia Grele a parlare col professore? Sì, è venuto parecchie volte, ha conosciuto la teoria del professor Auriti e c'è stato anche un convegno molto importante ad Atri, provincia di Teramo, nella scuola di specializzazione di studi giuridici monetari, dove sostanzialmente condivise e apprese tutte le teorie del professor Auriti relativamente alla proprietà popolare della moneta e comprese anche qual era il principio del debito pubblico e del reddito di cittadinanza. Ma da questo concetto di reddito di cittadinanza si è discostato poi nell'applicazione pratica successiva, perché non è stato visto più come proprietà della moneta popolare, quindi da ridistribuire come reddito in favore di tutti i cittadini, ma sostanzialmente come l'emosno, cioè come risparmio che viene poi ridistribuito. Questo concetto quindi, se non viene applicato nella sua ortodossia e quindi nella sua internalità, chiaramente manca di un presupposto fondamentale di chi è la proprietà della moneta. Se la moneta è dei cittadini, va attribuita a titolo originario al momento dell'emissione alla collettività nazionale. Di conseguenza la banca centrale è un tipografo, è come se io andassi a chiedere al mio tipografo, stanno in bigliettini da visita e il mio tipografo diventa proprietario del mio studio professionale. E' ovvio che il tipografo percepirà il suo corrispettivo per la stampa del simbolo monetario, ma il valore monetario è dei cittadini. Quindi percepirà il corrispettivo per la stampa del mio bigliettino, ma lo studio rimane mio. Questo è il concetto fondamentale. Ricordiamo che siamo qui con Antonio Pimpini, allievo, amico e assistente e avvocato del professor Dauriti. Senti, gli atti e la registrazione del convegno di Atri, è possibile reperirli in internet o no? Mi sembra di sì che era possibile, perché su simec.org dovrebbe essere possibile. Cioè il video intero? Dovrebbe essere, e poi chiederò anche... Si potrebbe chiedere a Rocco Carbone se ci manda il link. Che lui fu quello che dopo prese tutto l'archivio. Perché sarebbe importante quella registrazione. Niente, cosa vuoi dire? Tutti questi anni si è un po' diffusa l'idea del professore di combattere frontalmente le banche? Il problema è comprendere come combattere, perché io ho già notato alcuni aspetti che possono essere visti in maniera critica. L'oro non ha valore intrinseco, la moneta non ha valore intrinseco. Ok, scusa che vado a riprendere il video loro. E' in inglese? Ah, in inglese. Ah, vero, c'è. E' in inglese. E' in inglese. Tutti noi usiamo il denaro. Mi abbiamo bisogno per comprare i beni di semenzi. La moneta non lo permoniarci, lo mettiamo da parte per la pensione o per quando ne avremo bisogno. Tutti li prendiamo dal denaro. E allora perché non sappiamo come funziona il denaro? Questo è il video di moneta intera. Siamo sulla pagina Facebook, no censura. Scusate ma oggi tecnicamente non ci siamo. La parte del denaro è creato dalle banche. Ok, partito il video. Come un mago le banche fanno apparire il denaro apparecchemente dal nulla ogni volta che concedono un prestito. Ma questo non è il denaro come quello che abbiamo sempre pensato. E' credito. Ed è temporaneamente il prestito dalle banche. Lo utilizziamo come se fosse il denaro e pensiamo che lo sia, ma poiché è credito, ad un certo punto dovrà essere ripagato. E quando è ripagato, il denaro stabilisce. Ciao, ma non mi fai più scherzo. E' il modo in cui viene creato e poi mistrutto quasi tutto il nostro denaro. Possiamo tirarci dunque di tutto questo denaro creato dalle banche? Beh, le banche fanno tanti profitti facendosi pagare degli interessi sui prestiti. Quindi, fintanto, che c'è fiducia nell'economia, prestano il più possibile. Più prestiti e più mutui significa che più denaro viene creato. Questo è il video di moneta intera. Siamo sulla pagina Facebook, non censura. Video degli svizzeri di moneta intera. E dunque le banche smettono di prestare e improvvisamente non ci sono soldi a sufficienza. Le attività fuggono, la gente perde il lavoro e le case sono più ignorate. E' questo che ha creato la crisi finanziaria e fondamentalmente niente è cambiato da allora. Il denaro è ancora creato dalle banche e sparisce quando viene pagato il debito. E fin quando non cambiamo ciò, non avremo mai un'economia stabile, un lavoro assicurato o casa che possiamo permetterci. Ma non deve essere per forza così. Moneta intera ha lanciato un'iniziativa per cambiare il modo in cui viene creato il denaro. Per un mondo migliore. Bene, ne parliamo adesso con lui Konstantin, giusto? L'uomo ci vuole capire, l'uomo ci vuole capire, l'uomo ci vuole capire. Ok, Konstantin di moneta intera. Konstantin Dametero. Buongiorno a tutti, ringrazio di essere venuti. Ringrazio anche agli organizzatori per averci invitato a questa conferenza. Noi abbiamo lanciato questa iniziativa in Svizzera, abbiamo raccolto 110.000 firme e andremo in votazione quest'anno oppure l'anno prossimo, non si sa ancora questo. Ciò vuol dire che tutti i votanti in Svizzera otterranno una scheda di voto dove dovranno, vi verrà posta la domanda, volete accettare l'iniziativa moneta intera? E dovranno rispondere sì o no. Già solo questo è un evento di rilevanza mondiale. Se venisse accettata sarebbe una sensazione. Allora, vorrei prima spiegare un attimo il termine moneta intera. Moneta intera è praticamente un mezzo legale di pagamento a pieno titolo emesso dalla Banca Nazionale, esente da debito. Ciò che il denaro che oggi abbiamo sui nostri conti non è. Dico questo anche perché dopo, quando parleremo di moneta intera, sapete che non parlo solo di questo denaro, ma anche in generale di un denaro emesso in questo modo. Senza debito da una banca centrale. Quindi possiamo chiamarlo anche moneta sovrano o in altri modi. Nel 2012 il professor Richard Berner della Southampton University ha fatto un sondaggio tra mille cittadini e cittadini e ha posto la domanda chi crea e mette in circolazione il denaro? L'84% degli intervistati credevano che fosse la banca centrale oppure il governo a mettere in circolazione il denaro e a decidere chi lo riceve. Invece alla domanda approvereste un sistema nel quale la maggior parte del denaro viene creato e messo in circolazione da imprese private da scopo di lucro e non d'organi statali. A questa domanda il 90% degli intervistati hanno risposto di no, che non lo vogliono. Quindi abbiamo una situazione dove nessuno, quasi nessuno approva il sistema attuale, ma quasi nessuno sa come funziona il sistema attuale. E invece appunto il sistema funziona proprio così oggi. Noi possiamo confermare queste cifre attraverso le oltre 100.000 firme che noi abbiamo raccolto. Io personalmente ho raccolto circa 1.500 firme. Queste firme sono state raccolte principalmente per strada, a contatto diretto con la popolazione. Quindi anche se non abbiamo fatto un sondaggio empirico, abbiamo potuto farci un'idea abbastanza buona della comprensione del sistema monetario da parte della popolazione. E possiamo assolutamente confermare queste cifre. La grandissima maggioranza non sa come funziona il sistema monetario e come viene creato il denaro. E questo è un grandissimo problema. Perché affinché l'iniziativa possa essere approvata dalla maggioranza della popolazione, è assolutamente essenziale che i cittadini comprendano il funzionamento del sistema attuale. Proprio perché l'iniziativa vuole realizzare ciò che la maggioranza crede essere già oggi in realtà. Allora qui vediamo appunto la teoria che è rappresentata anche nel libro di testo, dove le banche fungono da intermediari, prendendo i depositi a risparmio e utilizzandoli per concedere crediti. Questa teoria è sbagliata. In realtà funziona così. Le banche creano denaro praticamente dal nulla e oltre ai fondi propri e alla liquidità, tutto ciò che devono avere è una riserva minima obbligatoria. Quindi una piccola parte di denaro della banca centrale rispetto al denaro che le banche hanno creato. In Svizzera questa riserva minima obbligatoria è del 2,5%. Nella zona euro è l'1%. Ci sono paesi come la Gran Bretagna, l'Australia e altri dove addirittura è 0%. Quindi lì non c'è assoluto alcun limite più alla creazione privata di denaro. Inoltre le banche, oltre che tramite la concessione di crediti, le banche creano denaro anche effettuando investimenti. Vediamo dopo le cifre ufficiali. In Svizzera oggi la massa monetaria consiste di circa 570 miliardi, di cui 70 miliardi sono denaro contante proveniente dalla Banca Nazionale Svizzera. Quindi vediamo, abbiamo l'88% di denaro bancario e il 12% di denaro emesso dalla Banca Nazionale Svizzera. Nella zona euro è circa l'82% di denaro bancario a confronti col 18% di denaro emesso dalla DCE. È interessante anche notare questo considerando l'attuale progressiva o i tentativi progressivi di eliminazione del denaro appuntante perché dobbiamo renderci conto che se oggi venisse eliminato il denaro appuntante i cittadini non avrebbero più a disposizione denaro della Banca Nazionale. Tutto il denaro che utilizzeremmo sarebbe denaro privato. Questo è molto, molto pericoloso. Allora, qualcuno chiederà dove sono le proie che le banche creano denaro. A parte appunto il fatto che lo si vede già nella composizione del denaro in circolazione che la maggioranza è denaro bancario. Inoltre, negli ultimi anni anche tante banche centrali hanno cominciato ad ammettere che le banche in effetti creano denaro. Per cui c'è la Bank of England, la Deutsche Bundesbank, la Bank des Fonds, anche la Banca Nazionale Svizzera benché è solo in un testo del 2013. E ci sono vari economisti che confermano questo fatto. Ora non vi leggo tutte le citazioni di queste banche centrali, potete trovarle sul nostro sito o su altri siti di riforma monetaria. Mi limito solo a una della Banca Nazionale Svizzera che dice «Le banche creano denaro tramite l'erogazione di crediti. Quando una banca concede un credito, essa scrive il rispettivo importo sul conto del cliente con la deposito». Tutto qua. Allora, vediamo un po' gli svantaggi del sistema monetario attuale. Abbiamo un gigantesco spreco di imposte. Il nuovo denaro creato, essendo stato messo in circolazione tramite crediti bancari, non è a disposizione per la spesa pubblica o per i cittadini. Questi, in Svizzera, perdono centinaia di miliardi, cioè tutta la massa monetaria in circolazione, oltre che annualmente da 5 a 10 miliardi di denaro supplementare. In Italia, se non erro, la massa monetaria in circolazione è circa un bilione, quindi questo è il denaro che i cittadini italiani perdono, oltre che da circa 10-20 miliardi annualmente supplementari. Quindi è veramente tanto, tanto denaro che viene sottratto in un certo senso ai cittadini. Questo adesso sono le cifre considerando una crescita economica dall'1 al 2%. I cittadini devono invece addirittura pagare interessi perché circoli abbastanza denaro. Questo è un grave splego del bene pubblico ed in contraddizione con i criteri statali di passimonia. Abbiamo costruzioni di debito. Siccome oggi il denaro viene creato quasi esclusivamente tramite crediti bancari, ci sono sempre debiti ed averi nella stessa quantità. Non esistono averi senza debitori e non è possibile uno sdebitamento senza riduzione dei patrimoni. Questo è importante capirlo. Tutto il denaro che utilizziamo è in realtà una rivendicazione di crediti ma questo sulle banconote o sui nostri conti non è scritto. Pensiamo che il denaro esista di per sé ma questo è spagliato. Se voi avete 100 euro nel portafogli oppure 100 euro su un conto qualcun altro per forza deve avere questi 100 euro come debito sui quali pagano interessi. In parte pure noi tutti attraverso il debito pubblico o acquistando beni e servizi perché gli interessi sono sempre compresi nei prezzi paghiamo anche noi gli interessi per avere denaro in circolazione sempre. Perciò i debiti restano sempre necessari anche se non sono sensati perché se tutti i debiti venissero stinti non ci sarebbe più denaro in circolazione. Può sembrare assurdo ma è veramente così oggi. per cui l'economia crore verde. Perciò nel sistema monetario di erno uno sdebitamento statale è solo possibile se privati e imprese si indebitano maggiormente oppure se vengono ridotti i patrimoni finanziari. Patrimoni monetari crescenti invece portano necessariamente a più debitori disperati. Abbiamo insicurezza. Il nostro denaro elettronico di erno depositato sui conti correnti è sempre in pericolo a causa del possibile fallimento della banca. Il problema consiste nel fatto che chiunque voglia partecipare al traffico dei pagamenti deve necessariamente dare un credito ad una banca che lo voglia o meno. Se la banca fallisse è possibile che il denaro scompaia e per salvarlo e garantire la continuità del traffico dei pagamenti deve intervenire lo Stato come abbiamo visto ultimamente. Sta parlando Costantin Demeter dell'iniziativa Moneta Intera. La banca centrale oggi non può quasi regolare la massa monetaria. Solamente le banche decidono quanto è la siamo sulla pagina Facebook no censura a Monza. Siccome la banca centrale non può regolare direttamente la massa monetaria cerca di influirne tramite i tassi di interesse di riferimento. Ciò non funziona bene perché il tasso di interesse è solo uno dei fattori determinanti della decisione di credito. questo forse è il motivo per cui tutti si intende in media sono preoccupati perché c'è la deflazione che in realtà la deflazione dovrebbe essere una cosa positiva per il consumatore finale che i prodotti costano meno mentre l'inflazione come diceva Grillo nel suo filmato consiste nel dover andare con una carriola per comprare un pacchetto di sigarette e tutti sono preoccupati per la deflazione mentre sembra quasi che anzi propendano per creare inflazione e quindi creare basse di denaro che valgono però sempre meno. Scusate se volete parlare però dovete prendere il microfono perché poi nella diretta Facebook non si sente quindi chi vuole parlare si alza e chiede il microfono. Ok da dopo in avanti. Certo la spinta a avere sempre l'inflazione è una spinta a crescita costante che però non è a favore di tutta l'economia è così sì Devo solo parlare mi sentite allora io non volevo far perdere tempo alle persone perché questa è la materia dei soldi è talmente ostica vicino alla bocca per favore ah ah sì grazie quindi è talmente ostica che io faccio fatica ora adesso ho capito io ho versato un milione ieri ce l'ho o non ce l'ho non riesco a capire questi concetti banca centrale banca centrale di qui di là io ho portato il milione in banca lo posso prelevare e lo posso usare quindi dov'è che perdo il non so se sono solo io a perderlo saluto e vado perché faccio perdere tempo evidentemente sono così indietro che non riesco a vedere questa realtà e non riesco a capire cosa sta succedendo tutti ne parlano preoccupati e io dico ma io vado in banca riprendo io non so cosa succede dopo e di conseguenza non so se tutti invece lo sanno io faccio perdere tempo se anche gli altri non lo sanno magari se lei ci aiuta a capirlo abbiamo un quadro migliore perché se no io non riesco a seguire il discorso io ho un milione benissimo voglio un prestito grazie ok grazie quindi non so se la domanda è chiara allora adesso vediamo una risposta subito vediamo un attimo se funziona l'altro microfono se gioco vuoi rispondere tu no allora va 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 allora il fatto è questo chi vuole fare la domanda è la mano come prima gli faccio il microfono tre infatti è questo in tempi normali finché c'è fiducia funziona a parte a parte comunque il fatto che i cittadini perdono tutto il signoraggio questo è una cosa che è sempre vera però finché noi abbiamo fiducia anche al sederario bancario la cosa funziona finché le banche concedono crediti e si concedono crediti a vicenda perché questo è importante durante le crisi sono sempre le banche che non si fidano più del loro stesso denaro a vicenda e quindi tutto il sistema del caffio di pagamenti viene interrotto non vengono più concessi crediti questo è il problema però se una banca fallisce quel milione che lei ha depositato in banca quel milione può sparire perché proprio proprio perché quel denaro non è mai esistito è denaro privato ed è solo un surrogato il denaro che noi abbiamo sui nostri conti è un surrogato di denaro della banca centrale non è denaro emesso dalla banca centrale quindi appunto come detto finché c'è fiducia funziona ma se una banca va in crisi quel denaro scompare e il fatto che lei può andare al Bancomat e ritirare denaro questo è l'illusione che il fatto che ci dà l'illusione che dentro nel conto c'è quel denaro però non è così il denaro contante sì quello è il denaro emesso dalla banca centrale però quando lei lo rimette in banca viene di nuovo quello viene utilizzato per altra liquidità e adesso il conto ha solo denaro un surrogato di denaro di banca centrale prego Roberto Riva una cosa chi ha fatto la domanda che quel milione che lei ha versato sul suo punto corrente giudicamente 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 dal momento in cui lei versa quel milione sullo suo conto corrente quel denaro non è suo giudicamente lo dice il codice civile l'articolo 1834 è di proprietà della banca per cui se la banca fallisce i suoi soldi se ne vanno 1.100.000 euro no 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 tutto fallisce poi c'è un fondo che se è capiente che le possono restituire prima o poi anche quei 100.000 euro ma lei se la banca fallisce i suoi soldi se li perde tutti quelli che ha su un suo conto corrente e che crede che sia lo suo come la maggior parte della gente crede che i soldi che ha sul proprio corrente siano suoi non lo so giuridicamente sono in proprietà della banca almeno in Italia Norberto Riva giusto per Sergio Morandi per completezza non è un deposito fiduciario che lei fa presso la banca se lei dà dei soldi all'avvocato e gli chiede di tenere le sue 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 su un conto pubblica cliente e questi soldi sono di sua proprietà se lui lo fa la banca se invece fa un deposito in banca come diceva il signore questi soldi non sono più suoi quindi siccome i conti correnti come vedremo parlando della riforma moneta intera fanno attualmente parte del bilancio delle banche nel caso in cui una banca fallizza questi depositi possono essere aggrediti dai creditori quindi questi soldi sono sempre a rischio la prossima crisi sistemica che ci dovesse essere lei si preoccupi di questi soldi di questo milione che fortunatamente ha in banca perché potrebbe non avervi più quindi questa è la differenza ed è qualcosa che non le dicono perché la perfezione comune è che questi soldi una volta messi in banca siano tenuti fiduciariamente non è così quindi in sostanza un deposito bancario e i soldi messi in banca come correntista hanno un valore solo se vengono trasformati in un bene che può essere poi scambiato con un altro bene ma finché stanno in banca potenzialmente possono non valere nulla soltanto se lei preleva i contanti dalla banca hanno un valore ma finché li lasci in banca possono essere reggitivi se li preleva li metti in una cassetta di sicurezza se li metti sotto il materiale su questo è un altro file di manca ed è questo il concetto di moneta perché questo è denaro riconosciuto a tutti gli effetti che ha corso legale allora solitamente le banche producono troppo denaro il che porta all'inflazione e bolle finanziarie ad esempio in Svizzera dal 1990 al 2012 la massa monetaria ha aumentato del 7,8% mentre l'economia è cresciuta solo del 1,4% con l'inflazione dell'1,5% inoltre la leva che le banche centrali hanno oggi è nettamente troppo piccola perché come abbiamo visto la riserva minima obbligatoria in Svizzera la parte centrale ha una leva di 1,40% con il 2,5% in Europa la zona euro ha una leva di 1,600% addirittura quindi è quasi impossibile con questa leva piccola influenzare veramente il comportamento delle banche in merito alla concessione di crediti quindi abbiamo bolle finanziarie l'eccessiva massa monetaria gonfia i mercati finanziari speculativi finisce più moneta nei mercati finanziari speculativi piuttosto che nell'economia reale quando le banche centrali abbassano il tasso di riferimento e le banche perciò possono cedere più crediti solo poco di questo denaro arriva all'economia reale al posto di invigorire l'economia e di ridurre il numero di disoccupati vengono nutrite le bolle finanziarie e è questo che vediamo ancora oggi le banche ricevono potrebbero concedere i crediti ma non lo fanno il denaro finisce nell'economia finanziaria e l'economia reale stenta a rimettersi in piedi in tutta Europa abbiamo cicli congiunturali la massa monetaria è costantemente instabile e si rischiano crisi finanziarie il sistema monetario basato sul debito accentua la crescita e la recessione tramite un effetto moltiplicatore e sospinge di per sé agli estremi dallo squilibrio eccessive fluttuazioni della massa monetaria sono quindi nella natura del sistema la crisi oggi non è un'aperazione è la normalità la crisi e il boom sono la normalità di questo sistema durante il boom economici le banche concedono troppi crediti mentre durante le recessioni stentano a concedere crediti amplificando in questo modo i cicli congiunturali l'economia mondiale quindi oscilla in modo maniaco depressivo tra bolle speculative e recessione infatti in molti paesi nella zona euro prima del 2008 in pochi anni si raggiuntiarono i prezzi immobiliari poi scoppiò la bolla ed in molti paesi si creò una disoccupazione giovanile oltre il 50% ecco qui vediamo che dal 1970 al 2007 quindi inclusa l'ultima crisi del 2007 e del 2008 ci sono state mondialmente 425 crisi finanziarie sistemiche nelle quali la principale causa oppure una concausa fu l'eccessiva creazione privata di denaro abbiamo pressione di crescita l'eccessiva produzione di denaro costringe l'economia a crescere costantemente vengono prodotti sempre più beni a scapito dell'ambiente e della collettività oltre che tramite i crediti allo Stato e da privati oggi il denaro per il consumo è disponibile solo quando imprese contraggono crediti e producono affinché le imprese ricevano crediti devono rendersi dipendenti da investitori che hanno aspettative di reddito ed incitano ad una costante crescita dell'economia il che non è possibile in un mondo finito siccome le banche incrementarono di molto la massa monetaria rispetto alla crescita economica si crea una costante sovrappressione dell'economia amplificata ulteriormente dal pagamento degli interessi che non vengono emessi alla concessione dei crediti e quindi richiedono ulteriore indebitamento quindi abbiamo un effetto esponenziale perché gli interessi devono sempre costantemente indebitarci sin dal tempo della prima industrializzazione l'emissione di monete tramite i crediti bancari portò alla dipendenza delle imprese verso gli investitori ad alte aspettative di reddito e quindi a costante pressione di crescita nel nostro sistema monetario un'economia che non cresce è instabile siamo condannati alla crescita ma la natura è limitata questa è una causa fondamentale della crisi ecologica è certo che non sarà possibile avere un'economia sostenibile con la quale sistema monetario abbiamo ridistribuzione già solo la messa a disposizione del denaro necessario all'economia porta a redditi di capitale esempi da prestazioni di miliardi e ad una crescita costante del patrimonio monetario i cittadini pagano interessi su tutto il denaro in circolazione quindi per esempio in Italia appunto se la massa monetaria è di circa un bilione con un supposto interesse del 2% solo i cittadini pagano annualmente 20 miliardi solo per avere denaro a disposizione da poter utilizzare questi interessi fluiscono principalmente verso i patrimoni monetari già esistenti ed ampliano il divario tra poveri e ricchi il sistema attuale monetario è complicato e incomprensibile come abbiamo visto quasi nessuno comprende lo che è un sistema monetario e i portisti professionalizzati naturalmente si truncano questa situazione noi spesso sentiamo la critica che l'iniziativa monetaria intera sia complicata ma ciò è sbagliato è il sistema attuale da essere complicato purtroppo per spiegare l'iniziativa dobbiamo per forza prima spiegare il sistema attuale è importantissimo che i cittadini comprendano il sistema attuale perché in un sistema democratico nel quale il denaro ha un ruolo centrale è essenziale che i cittadini lo comprendano una frase una frase ok per ultimo vorrei aggiungere solo un attimo la concorrenza sleale oggi le banche sono avvantaggiate rispetto alle imprese perché loro possono creare denaro per effettuare investimenti mentre le imprese non possono creare le imprese devono possedere veramente il denaro per effettuare investimenti in più c'è una concorrenza sleale tra piccole e grandi banche questo perché le banche creano denaro nel complesso e questi loro attraverso il traffico di pagamenti questo denaro che le banche hanno creato viene compensato a vicenda cioè quando quando loro le banche sanno che questo denaro elettronico non è vero denaro quindi se del denaro va dalla banca A alla banca B la banca B vorrà vedere il vero denaro della banca centrale però se la banca B fa la stessa cosa le due cose si annullano quindi nel complesso le banche possono creare denaro quindi da una banca piccola tenderà a uscire più denaro rispetto a quello che entra mentre da una banca grande tenderà più a entrare più denaro rispetto a quello che esce perciò la banca grande oggi può permettersi di creare più denaro rispetto a una banca piccola inoltre oggi le banche piccole soffrono maggiormente a causa delle complesse prescrizioni che richiedono molti impiegati per il controllo il sistema di moneta intera semplificherebbe molto ci vorrebbero molto meno regolamenti il che favorirebbe anche le piccole banche bene ora termino con una citazione di Josef Huber che è uno dei principali riformisti monetari in Germania è il fondatore del movimento Monetative che c'è anche il sito monetative.de Josef Huber dice la moneta intera non è tutto ma senza moneta intera tutto è niente grazie grazie innanzitutto per la bella iniziativa volevo fare una domanda voi praticamente avete detto che la moneta intera in sostanza è una moneta esempio da debito ed è una moneta sovrana io volevo gentilmente che mi spiegaste se si tratta di moneta di proprietà popolare perché secondo me è un conto è la moneta sovrana è un conto è la moneta di proprietà di popolo grazie scandite la voce al microfono ok non risponderemo a questa domanda perché l'intervento mio è proprio riguardo a proprio quella domanda quindi saremo in grado di rispondere si sente? si ok insomma abbiamo capito che questo sistema monetario